Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del compressore a vite italico KV5-270, ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il compressore a vite italico KV5-270 rappresenta una soluzione ideale per professionisti e imprese che necessitano di sistemi di compressione d'aria di elevata qualità. Caratterizzato da un design avanzato, questo modello garantisce una compressione dell'aria altamente efficiente e costante, priva di impurità. La sua capacità di mantenere il rumore al di sotto dei 69 dB, A, lo rende particolarmente adatto per ambienti di lavoro dove è richiesta una bassa emissione sonora. In termini di prestazioni, il compressore offre una capacità produttiva di 360 litri d'aria al minuto con un serbatoio da 270 litri, ideale per applicazioni industriali che richiedono un flusso d'aria continuo e affidabile. Il motore da 3.5 kW raggiunge una pressione massima di 10 bar, facilitando operazioni in una varietà di contesti industriali. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.